Per gli amanti del mare e della cucina marinaresca il venerdì sarà su Fano TV l'appuntamento alle 21 per cuochi di bordo immancabile. Dieci puntate dove dieci chef del territorio si confronteranno con la cucina tradizionale dei marinai dopo aver passato una mattinata a bordo di una vongolara e comprato il pesce sulla banchina del porto. Ma oltre al mare e alle cucine i telespettatori potranno conoscere attraverso gli interventi di due esperti la storia della marineria e delle specialità ittiche e le proprietà dei pesci che ad ogni puntata saranno utilizzati dagli chef. Una ventina in tutto, due per ogni puntata più le immancabili vongole pescate proprio davanti al nostro mare nella mattinata assieme allo chef. Cuochi di bordo però vuole essere anche una finestra aperta sulla città di Fano e sui fanesi, quindi quale modo migliore per concludere a tavola con tre ospiti diversi per ogni puntata una bella giornata di mare e di ricette? Ebbene 30 interlocutori ad hoc si intratterranno con il conduttore nel finale di puntata per gustare, commentare e parlare di fanesitudine davanti a un buon calice di vino brindando al mare e alla marineria fanese.